Nessun giocatore recuperato domani per la partita, per la sfida contro la Roma, la sfida dopo 50 giorni di nuovo a San Siro per i rossoneri che avranno uno stadio che gli spingerà per poter continuare a cercare di raggiungere il primo posto in classifica, una Roma che gode di massimo rispetto da parte di Pioli, di Stefano Pioli, ma l'allenatore del Milan dice che il Milan deve pensare solo a se stesso, partita dopo partita e concentrarsi sul proprio gioco. Questo vedremo domani in uno stadio pieno, molta fiducia da parte di Pioli e l'attenzione per una partita veramente importante, una delle più importanti di queste settimane, prima poi della trasferta con un trofeo da vincere a Riad. Ci vediamo domani sera dopo la partita per Back to the Football. Ciao a tutti, buona giornata.